Sicurezza e mare, un binomio che dovrebbe camminare sempre di pari passo, come invece a volte non accade, dando vita così a tragedie che restano indelebili nella memoria. Se ne è discusso a Barletta tra le stanze della locale Lega Navale in una mattinata di formazione e divertimento. Protagonisti, gli uomini della Capitaneria di Porto, insegnanti per una mattinata al cospetto delle scolaresche cittadine. Un'ora di domande, risposte, consigli e precauzioni da adottare prima e durante l'ingresso in acqua alle porte della bella stagione, tra un occhio attento all'alimentazione e la cura dei dettagli. Dai banchi i partecipanti sono poi passati alla pratica. Accompagnati da una moto vedetta della Guardia Costiera e a bordo di alcuni commoni, i giovani alunni hanno potuto assistere alla liberazione di un esemplare di caretta caretta dell'età approssimativa di 25 anni. L'evento è stato organizzato dal Centro Recupero Tartarughe Marine WWF Molfette e dal suo coordinatore Pasquale Salvemini. A un miglio circa dalle acque del porto, la tartaruga, grazie anche all'operazione di alcuni sub, ha potuto prendere in largo il tutto, ovviamente in piena sicurezza. Grazie, grazie.